adesso Anders Bordal 98 chilometri e mezzo, veloce allo stacco dal dente e lui la piazza la misura finalmente non è eccezionale ma almeno c'è il punto K che sommato ai 197 metri e mezzo 183 e mezzo è quasi il punto K sommato ai 197 e mezzo della prima match potrebbero portarlo decisamente in testa ha preso un po' di vento da sotto Bordal infatti ha una compensazione, una piccola compensazione in negativo e adesso tocca a Gregor Schillensauer che ha una grande occasione perché Koffler è andato malissimo e ha appena 42 punti